Ancora una notte fredda, freddissima quella che si prospetta nel territorio aretino, ci troviamo al comitato aretino della Croce Rossa Italiana con il presidente Carlo Cigna e alcuni degli operatori che insomma in queste notti così fredde portano il loro aiuto a chi purtroppo è un senza tetto. Sì ormai direi che purtroppo è una tradizione quella di uscire la notte con una squadra per supportare e sostenere quelle persone che essendo senza tetto e non trovando o non volendo andare in ricoveri già organizzati ad arezzo perché esiste effetti un ricovero notturno preferiscono stare all'aperto o sotto qualche tettoio o qualche casa abbandonata. Logicamente con tutti i rischi conseguenziali dell'assideramento e allora noi li aiutiamo portando le bevande calde, qualche alimento un po' corroborante e poi soprattutto distribuendo coperte di modo che li siamo vicini in queste forme. Sono persone che hanno fatto una scelta di vita, non vogliono essere ricoverate anche perché molti hanno gli animali con sei cani e non vogliono lasciarli e quindi preferiscono stare al freddo e rischiare la vita per non abbandonare il loro animale, il loro amico della vita perché diventano parte della loro vita questi animali spesso. Ecco l'apporto della Croce Rossa però non si ferma qua, ci sono tanti mezzi messi a disposizione della macchina appunto dell'emergenza e della protezione civile, uno è proprio alle nostre spalle tra l'altro è un acquisto recente e c'è stato un intervento proprio di pochi giorni fa. L'intervento risale a domenica sera quando su attivazione della centrale operativa 118 la nostra ambulanza fuori strada è dovuta intervenire per raggiungere una persona cardiopatica che si era attraversata con l'auto nella salita di Montelignano. In supporto all'ambulanza visto anche il ghiaccio abbiamo fatto intervenire questo mezzo spartineve e spargi sale per appunto aprire la strada. L'intervento è chiaramente andato a buon fine e anche con l'intervento dei vigili del fuoco e la collaborazione con tutti gli altri enti. Nel vostro parco macchine qua Presidente ci sono altri mezzi che però possono essere utili insomma? Certo, noi abbiamo in ultimi tempi potenziato il parco macchine, abbiamo un quad che serve per intervenire ad esempio in zone boscose dove si può arrivare con le ambulanze, abbiamo un fuoristrada 4x4 ambulanzato e poi tutto un parco macchine di ambulanze e di mezzi per fare servizi di visite, interventi sanitari e quant'altro. e ti trasporto. Quindi è un impegno costante, è un investimento costante ed non è facile trovare le risorse oggi perché lo sapete perfettamente che la Croce Rossa oggi è diventata un'associazione di diritto privato e quindi deve trovare al suo interno le risorse con i propri servizi. Quindi è un grosso impegno che portiamo avanti e col supporto di questi giovani che sono volontari. Volevo sentire un attimo, sentiamo anche la voce di Serena, cosa si prova a dare una mano a queste persone proprio in questi giorni? Una gran soddisfazione, si fa il volontario per essere sempre a disposizione del prossimo tutto l'anno. Che cosa si raccoglie a livello proprio umano quando si tocca con mano? Situazioni anche davvero ai margini della nostra società, no? Sicuramente tutto quello che ci viene ridato dalla popolazione contribuisce a formare un bagaglio di esperienza, di vita che uno si porta dietro per tanto tempo. Le soddisfazioni sono quelle di vedere i sorrisi della gente o i ringraziamenti della gente che andiamo ad aiutare.